Sostanzialmente è un accordo fra sindaci e ciclisti, in particolare tra Ali, Autonomie Locali e FIAB, proprio per andare in una nuova direzione della mobilità ciclistica. Sì, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ha la rete dei comuni ciclabili, è già un accordo con Ance per sviluppare questa rete e questo accordo firmato oggi proprio nella cerimonia di consegna degli attestati a 56 comuni ciclabili appartenenti alla rete, questo accordo sviluppa azioni con gli amministratori locali all'interno della città per favorire la mobilità ciclistica. Fra l'altro le autonomie locali hanno il format sindaco in bici, quindi già lavorano su queste tematiche. Con questa collaborazione cerchiamo di mettere in campo le competenze rispettive e i saperi di ognuno per poter andare avanti per avere città più vivibili. A Teramo come potremmo tradurre questo accordo che non è propriamente un comune almeno finora ciclabile? Ogni comune può essere a misura di biciclette, non solo con le infrastrutture ma cambiando la mentalità dei cittadini. Fino a pochi anni fa io sono nato a Villa Mosca, quindi in collina, da ragazzino andavo abitualmente in bici con la mia graziella che pesava tantissimo per le strade del quartiere senza nessuna preoccupazione, scendevo a piedi in centro senza farmi grossi problemi. Bisogna riappropriarsi un po' del senso dello spazio e della fisicità e vivere la città a piedi, in bicicletta e soprattutto usare l'automobile quando serve in maniera intelligente. Prossime iniziative FIAB proprio per andare nella direzione della mobilità sostenibile? Noi diamo un supporto ai comuni sia con il nostro centro studi sia con le nostre attività formative, abbiamo il format scuola di comuni ciclabili che si rivolge proprio alle amministrazioni. Formiamo anche i tecnici, i tecnici privati, architetti e ingegneri e anche i cittadini che vogliano approcciarsi e sapere un pochettino di più di ciclabilità. Perché noi non andiamo verso i ciclisti sportivi, non solo, ma verso tutti quelli adulti, bambini, anziani che vogliono utilizzare la bicicletta per spostarsi ogni giorno.